Amici di TG Evans dall'Hotel de Paris, un saluto al volo con la mitica Lorella Cuccarini. Direi al volo non è un eufemismo, è proprio al volo perché abbiamo un incastro di impegni, però insomma ciao a tutti, buon lavoro. Come va questa avventura sanremese? Ah, ma è benissimo, la tua? Anche molto molto bene, mi sto divertendo perché poi la vivo in una chiave diversa, insomma attraverso la radio, era la prima volta che facevo un'esperienza sanremese così e quindi meglio di così, insomma una nuova esperienza. Favorito? Ce l'hai già? Favorito? Ce ne ho una serie ma non lo dico perché poi insomma... Scaramanzia? Non sono scaramantica ma soprattutto per i cantanti, non è il caso di dirlo. Per correttezza, insomma, finché non è finito. Perché poi insomma con ognuno ho un rapporto bello, insomma, che è segnato, sì, da momenti anche della vita particolari, per cui è meglio non dire nulla. Perfetto. Lorella grazie. Grazie a voi. Buon proseguimento. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao.